Il cinema era muto Un tempo, il cinema era muto. Le immagini scorrevano sugli schermi delle città, impressionando gli spettatori, increduli per quello che i loro occhi stavano percependo. Erano spaventati, terrorizzati, perché non capivano, non riuscivano ad entrare in quello che vedevano. I fratelli Lumière, alla prima proiezione in un teatro, ai primi novecento, riuscirono a far fuggire gli spettatori semplicemente con le immagini di un treno che entrava in stazione. Beh, del resto, come dargli torto? Provate a pensare, in quel caso, la fantasia si è fusa con la tecnologia e, nel contempo, loro hanno avuto la percezione di essere travolti, chiunque sarebbe scappato del resto. Ma non bisogna avere timore delle innovazioni, soprattutto se le stesse aggiungono qualcosa in più a delle invenzioni di per sé efficienti. Un critico letterario canadese disse una frase molto importante, Northall Frye per la precisione. La macchina tecnologicamente più efficiente che il nuovo abbia mai inventato è il libro. Oggi abbiamo l'opportunità di potenziare questa grande macchina e di implementarla proprio per voi lettori. Quello di cui voglio parlarvi è molto semplice. Fra l'altro, semplice quanto un secolo fa permise di abbinare la musica alle immagini del cinema mutuo di cui parlavamo poc'anzi. Ecco, io ho semplicemente sincronizzato le immagini, non le immagini, scusate, la musica, in questo caso, alle parole e non alle immagini. Vorrei stimolare la fantasia di voi lettori permettendo di calarvi in quello che è la narrazione, in un modo ancora più efficace. Sto parlando semplicemente di una nuova dimensione del libro. Si chiama moviebook. Questo è il moviebook. Semplicemente l'implementazione del libro. Ma non spaventatevi come si spaventarono gli spettatori dei Fratelli Lumière. In questo caso sto semplicemente dicendo che attraverso l'udito attiviamo il nostro orecchio poetico durante la lettura per cogliere l'infinita gamma le sfumature che le parole da sole spesso non riescono a dare. La sentite la musica? La sentite la musica? La sentite la musica? Sì, 59 g ore role. La sentite la musica? Quali�� logica in. Y viva? Sì, cinque Crus redo l' всегда. Sì, Rocco Sloven. Non ci sostituiamo alla fantasia del lettore, bensì la amplifichiamo, esattamente come è accaduto adesso. Quello che facciamo è semplicemente di trasformare l'adrenalina, la commozione o la suspense, modificando quello che è il vostro ambiente in cui leggete, la vostra camera, il vostro studio, la vostra poltrona preferita, rendendola ancora più avvolgente. Negli ultimi anni in Italia i lettori sono diminuiti in maniera esponenziale. Solo il 45% dei ragazzi, ad esempio, fra i 6 e i 10 anni di età, leggono regolarmente. Non parliamo poi dei lettori adulti, per carità. In quel caso i dati Istat a gennaio 2015 recitano che dal 46 al 41% sono scesi i lettori dal 2010 a oggi, confermando quindi una tendenza che sta sempre di più diventando inarrestabile al ribasso. Addirittura una famiglia su dieci in Italia dichiara di non avere un libro nella propria casa. Ma perché le persone non leggono più? Dicono che non hanno tempo. Ma in realtà, se guardiamo il tempo che passiamo attaccato al cellulare, messaggiando, mandando comunque messaggi via chat o via sms, oppure attraverso lo streaming, abiliamo i film, scarichiamo musica, riusciamo comunque ad avere tempo. E' questa cosa che mi ha fatto pensare. E ho detto, cosa posso fare io? Nulla. In teoria, sono uno scrittore, non potrei fare null'altro che scrivere e sperare che qualcuno abbia voglia di leggere. quello che vi presento oggi, però, attenzione, non è il surrogato del libro cartaceo. So già cosa penserete. Vabbè, una nuova idea sarà una fotocopia, magari, dell'ebook in digitale. Non è nulla di tutto questo, perché non voglio sostituirmi a quello che può essere l'appeal del libro cartaceo. Lo tocchiamo, lo odoriamo, lo sentiamo. E' bello leggere un libro cartaceo, e non voglio sostituirlo, né tantomeno diventare un surrogato dell'ebook. Però, bisogna dire una cosa, che la lettura in digitale sta crescendo. Al di là di quelle che possono essere, magari, le idee di ognuno di noi, è cresciuta la quantità di gente che legge in digitale, perché è economica, perché è versatile, perché alla fine è anche comoda da trasportare. Ora, mi sono chiesto, tornando al discorso di prima, per quale motivo non si legge in Italia, e soprattutto nel mondo, magari, perché stanno diminuendo i lettori, non soltanto qua, ma anche oltre le confine. Perché per tanti leggere è noioso. Ebbene sì, è noioso. Non si è più capaci di far volare la fantasia. E io voglio essere la penna che da quest'oggi scrive un nuovo inizio, apre un nuovo scenario. Bene, questo è il moviebook. La macchina tecnologicamente più efficiente, ritornando alla frase di prima. è un'applicazione che permette di leggere i libri, ascoltandone i suoni evocati dalle parole. Sembra un paradosso, perché di solito leggere implica il silenzio. Ma non è così. Il mio secondo romanzo, Anatole, sarà il primo thriller composto con colonna sonora. Sarà l'occasione, tra l'altro, per capire e apprezzare di più quello che è l'abbinamento tra suono e parole lette. Attraverso la colonna sonora composta dal maestro Alex Fabiani, pianista, avremo modo da giugno, quando uscirà, sia nei paesi anglofoni sia in Italia, di capire che cos'è esattamente il moviebook. Intanto iniziamo a capire cos'è Anatole. Allora, oggi c'è l'espasso? Anatole Anatole Non 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 Autore dei sovrapposti Bene, questo è il book trader del libro, riassume un po' i contenuti di quello che è la trama, tra l'altro attraverso dei filmati rilasciati dall'Academy Awards, quindi tutti conosceranno per l'Oscar. Bene, cosa significa il primo libro innovativo con colonna sonora? Beh, Anatole è un romanzo che parla di jazz, come avrete intuito magari dalle immagini, ma lo fa con un piglio diverso fondamentalmente, perché permette al lettore di ascoltare i brani che il protagonista compone all'interno della trama. Beh, già di per sé comunque un qualcosa di innovativo, di particolare, ma il movie book non è assolutamente solo questo. Il sottoscritto che vedete su questo palco non è più uno scrittore, bensì si trasforma e diventa in un regista di libri, una nuova professione, perché il movie book è una nuova forma di intendere la lettura. Lo farò, tra l'altro, con una cosa, in modo un po' particolare, perché questo sistema, che arriva direttamente dagli Stati Uniti ed è stato sviluppato in Italia, nasce da una mia idea, perché ho pensato per quale motivo non si riusciva a trasformare la lettura in qualcosa ancora più bello. Per carità, la fantasia è importante. Tutti quanti devono permettere attraverso il loro cervello, la loro testa, di fantasticare leggendo delle pagine, ma possono essere accompagnati in questo viaggio. Ora, potete pensare, il libro è collegato al jazz e quindi è semplice riuscire comunque a fare qualcosa di questo genere, ma in realtà, se pensate, questo sistema è adattabile a tutto, perché si possono udire i passi di un assassino in un libro thriller, o il rumore del mare in sottofondo mentre due innamorati camminano su una spiaggia. Ma anche il passo sincopato degli zombie, o piuttosto l'avvicinarsi di un vampiro dietro alle spalle di una vittima. Ma soprattutto, per i più piccoli, si possono sentire i rumori della natura, il rugito di un leone per un bambino, oppure raccontare le favole di un tempo, come Cappuccetto Rosso, facendo sentire al proprio figlio lululato del lupo. Credo che questo possa essere la gamma di quelle che possono essere le tipologie di lettura attraverso il moviebook. La cosa bella è che tutto ciò è accompagnato dalla tecnologia, la stessa che ogni giorno usiamo, ma che quando si parla di cultura si tende a denigrare. Quella, la tecnologia, diventa la nostra migliore compagna di viaggio. Grazie a questa innovativa applicazione, che è scaricabile gratuitamente sul proprio tablet, iPhone, qualsiasi sistema di lettura e reader, si potrà iniziare a leggere con un sistema che apre una nuova era. Tra l'altro, pensate in metropolitana o in treno, che bello sarà leggere attraverso un testo a scorrimento, quindi senza problemi di dover tenere in mano il libro se non tenere soltanto l'iPad o il tablet, ma non dovete sfogliare nulla, non dovete girare la pagina nemmeno con un dito, e ascoltare, calarvi nella narrazione attraverso le auricolari. In questo modo verrete totalmente avvolti dal libro. E lo farete, tra l'altro, con la possibilità di decidere la velocità del testo di lettura. Ora, questo cosa significa? Che si amplifica l'esperienza di lettura, aumentando l'appel narrativo, soprattutto verso quelle nuove generazioni che sono avvezza la tecnologia. Ecco cosa voglio fare, in estrema sintesi. Voglio prendere l'immaginazione per mano e trasformare la lettura in un'esperienza multisensoriale. Ora, vediamola insieme. Quel figlio di Dio era troppo bello. Nessuno avrebbe mai pensato che quel piccolo uomo fosse un bambino di nessuno. La polvere accarezzava l'asfalto fumante, mentre le foglie dei pochi alberi piantati nelle uole ondeggiavano delicatamente fra i rami. Aleggiava nell'aria una sensazione di torpore, troppo caldo per vagare nelle larghe strade dell'Alabama. A quell'ora di agosto, nel primo pomeriggio, chi lavorava era lontano da quel sobborgo della Greeter Birmingham e chi non aveva un lavoro restava a casa a oziare. Vi abitava solo gente di colore. Povertà e degrado erano le uniche tristi compagne di vita. Era come una malattia cronica, se vi nascevi ti accompagnava fino alla morte. Difficilmente qualcuno era riuscito a fare fortuna partendo da lì, dall'area più povera della contia di Jefferson. Lei sola correva per quella strada con il sole a picco. Se qualcuno l'avesse vista, avrebbe avuto un moto di paura. Giovane, grassa e con il grembiule bianco sporco di sangue. Nessuno tuttavia ebbe cura di notarla attorno all'ecera al deserto. La donna si avvicinò velocemente alla porta dell'istituto, come chiamavano i Semmeri in quel lembo di periferia. Era un ricovero per senza tetto e all'occorrenza un rifugio per bambini problematici senza padri e madri. Due esili suore scostarono la tenda del refettorio, osservando in lontananza una figura avvicinarsi di gran passo e superare il cancellino in legno del giardino. Erano incuriosite, volevano capire chi fosse. Poi notarono cosa aveva in braccio e non si curarono più di lei. Sapevano, era il testo di un libro già letto troppe volte. In lontananza, le gomme di un'auto fecero trassarire la donna di colore. Il suo sguardo era preoccupato, non voleva essere vista. Aveva al petto un piccolo fagotto composto da una lunga coperta di maglia fatta a mano. Raggiunse con fatica i gradini di quel fetito luogo, stordita dall'esalazione della cucina ubicata nel sottoscala. Un odore acre, salato e stagnante le invase le narici. Quella puzza avrebbe fatto rabbrividire anche il più affamato dei disperati. Lì per lì il pensiero di cosa stessero cucinando le occupò la mente. Poi, come per caso, tornò a interessarsi del fagotto che portava con sé. Lo ripose a terra con cura, appoggiando il lato più corto verso l'ingresso. Bussò due volte. Poi, girandosi di scatto, iniziò a correre più forte che poteva, senza nemmeno attendere che qualcuno aprisse la porta. Sapeva che di lì a poco qualcuno l'avrebbe fatto e non c'era bisogno di aspettare. Preferì fuggire prima di essere fermata. Il suo goffo in cedere non la facilitava e il sovrappeso le sbilanciava le caviglie rallentandola. Persa una lacrima. Poi girò l'angolo e si dissolse nell'aria calda dell'Alabama come fosse asfalto anche lei in quella triste città. Poi girò l'angolo. Poi girò l'angolo. Poi girò l'angolo. Poi girò l'angolo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.